Un cordiale saluto, un bentrovati da Nikos di Trebi Meteo. Osserviamo per prima cosa il movimento delle perturbazioni, delle alte pressioni sul comparto europeo. Troviamo sempre questa alta pressione con i suoi massimi scappata sul nord Europa, addirittura sulla lontana Scandinavia e ha lasciato la porta atlantica spalancata tra Spagna e Francia. Questo vuol dire un letto di correnti umide e oceaniche da Ponente verso Oriente, quindi attenzione a un via vai di perturbazioni. Una ci lascia mercoledì, ci abbandonerà e andrà verso la Grecia, ma una seconda lambirà i settori più nord-occidentali nel corso della giornata. Andiamo qui nella nuvolosità, ci fa vedere questo corpo nuvoloso che lascia con gli ultimi fenomeni il basso Adriatico mercoledì mattina, poi delle belle aperture del cielo, ma guardate ancora delle nubi che affoleranno i cieli del nord-ovest. È una debole perturbazione. Andiamo in sintesi quindi a capire cosa ci attende nel corso di mercoledì. Guardate delle schierite anche ampie al nord-est e buona parte del centro-sud. Una giornata nel complesso buona, specie nel pomeriggio. Vi segnalo invece ancora delle nubi che interesseranno l'estremo nord-ovest e parte di Sardegna con qualche occasionale piovasco. Le temperature non sono fredde al centro-sud, anzi miti per i venti sempre di ribeccio richiamate dal passaggio di queste perturbazioni. Come sempre i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.